Noi, giocare, guardate, stia, te l'ho detto un sacco di volte Ma perché? Non pensavo che partisse la sigla Eh, non pensavo, parte la sigla, se premi il puzzante parte la sigla, no? No, metti da! Annaggia Dai, signore e signori, ben ritrovati ad un nuovo episodio di Popcorn e Podcast Giunto ormai alla terza stagione Pazza, la terza? Non ti sei rotto le scatole, non sei stanco? Allora, guarda, la verità, ho un amore e odio verso il programma, ma di questo ne parliamo magari in separata sete Noi invece qui siamo per parlare invece degli argomenti della puntata, quali sono? Gli argomenti della puntata sono, faremo una piccola recensione di Sicità, che abbiamo visto entrambi insieme E poi, chiaramente per parlare di cinema e serie tv, abbiamo qualche notizia sulla nuova serie con protagonista Alessandro Borghi Ovvero Super Sexy, dove interpreta Rocco Siffredi Non vedo l'ora E poi c'è Ryan Reynolds e il suo Deadpool 3 E poi ancora l'evento di presentazione delle nuove uscite di Netflix, To Doom Con tutte le nuove uscite Ma prima di tutto, però, parliamo di Nostalgia, il nuovo film candidato all'Oscar per l'Italia Adesso, se vuoi, puoi premere la sigla Sigla Ben tornati! Sì, siete andati al cinema durante l'evento Cinema in Festa? Con chi stai parlando? Con il pubblico Ma non ci può sentire, non siamo in live Hai ragione, ma se ascoltate su Spotify potete notare che c'è un box dove potete rispondere alle domande con sì e no E poi potete anche commentare dicendoci quale film avete visto Oh, la vedete, non lo sapevo E invece chi non ci ascolta su Spotify? E chi non ci ascolta su Spotify ci guarderà su YouTube e su YouTube potete commentare Oh, ma che furbo eh Eh, mica mi facevano direttore così Comunque, bando alle ciance Parliamo del primo argomento che è quello più succoso Ossia, Oscar 2023 Contiene la tradizione dei registi napoletani alla statuetta Infatti, Mario Martone, dopo il giovane Sorrentino Ah, quello stavo pensando Eh, quello stavo pensando Dopo Sorrentino, torna agli Oscar con il film Nostalgia Che è stato selezionato per rappresentare l'Italia ai prossimi Oscar 2023 La lista era lunga C'erano molti film che meritavano o forse no Però poi l'Accademia Italiana, l'Anica Ne ha scelti due e dodici E di questi dodici poi ne ha scelto uno Andiamo a vedere qual è la lista dei film Che erano stati, diciamo, proposti, no? Ci sta Chiara di Susanna Nicchiarelli Il Coribri di Francesca Archibugi Dante Giulia di Cilio De Caro L'Immensità di Emanuele Criarese Che poi, voglio dire Mindemic di Giovanni Basso Io ho visto il terreno di questo film Ed è veramente No, è veramente una roba che non capisco perché l'abbiano pensata Nostalgia, appunto, di Mario Martone L'Ombria di Caravaggio del buon Michele Placido Le Otto Montagne di Felix Van Gogh In Charlotte Van der Me Così, non lo so come si pronuncia così Piccolo Corpo di Laura Samani Il Signore delle Formiche di Gianni Amedeo E la Stanizza di Roberto Andò Che vedremo Che vedremo Che vedremo Alla prossima festa del cinema di Roma Ah, è vero Ma anche con i primi Mi pare che è il film di apertura invece È il film di apertura Infatti sono titoli che vedremo più in là Allora Adria, cosa ne pensi intanto di questa scelta Da parte della commissione? Cioè, intanto Io so che tu sai Cose che io non so Come sempre direi Come sempre Puoi spiegarci un po' come funziona Chi sceglie i film che devono rappresentare l'Italia? In realtà la prima selezione Non è una vera e propria selezione Nel senso che ci si candida I produttori candidano il proprio film Se ritengono di avere Qualche chance O semplicemente se Anche se vogliono farsi pubblicità Mi ricordo negli anni passati C'erano film improponibili Anche quest'anno c'è un film improponibile Che è Mindemic Vi invito a vedere il trailer di Mindemic Con il modico sborso di 500 euro Ti puoi fare un po' di pubblicità Nel senso che La presentazione di questa candidatura Costa 500 euro E comprende tutti i film in lingua italiana Cioè, questi sono i I criteri I criteri da rispettare Che il film sia in lingua italiana Che anche la produzione Sia comunque Sul nostro territorio Non sono proprio al 100% In questa grande maggioranza E che poi si è uscito nelle sale Tra il primo gennaio E il 30 novembre Dell'anno in corso Ok E poi la selezione viene fatta appunto Dall'ANICA Che è l'Associazione Nazionale Industria Cinematografica Audiovisiva e Multimediali E perché proprio l'ANICA E non un'altra associazione? Perché è la commissione di selezione Che viene Che si è la scelta Dagli Oscar Sì, è l'Academy Che ha scelto Che ha scelto l'ANICA E quindi Niente Se voi avete fatto un film Pagate 500 euro l'ANICA E l'ANICA vi porta Agli Oscar Sì Registi Insomma Dette le lavori Un po' come La Giulia dei Davidi Diciamo che Un po' un misto Quest'anno tra i vari nomi Ho visto che c'è Fezzanop Quella cosa lì Fezzanop Matteo Rovere Laura Delicolli Nicola Borrelli E poi Tante arti Che boh Che ne so Ma Quale era il tuo preferito Tra questi 12 Ah beh Chiaramente Io speravo in Giulia Cioè sappiamo tutti Perché Anche perché È fresca fresca La notizia che Giulia Di Ciro De Caro È stato considerato Miglior film del SAI Dell'anno 2022 Dal ficce Non è mica bruscoletti Cioè siamo partiti Con un filmetto Invece Pam Nomination David Selezione Bam 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 Bravo Bravo Ciro De Caro Nostro ospite Alla seconda stagione Andate per recuperare L'episodio Che mi dici invece Di nostalgia Ma io comunque Ero più Cioè se avessi dovuto Fare il tifo Per un film Avrei votato Per Piccolo Corpo Ah Dissi a me Ma è semplicemente Perché mi è piaciuto molto Non perché credo Abbia chance Ricordiamo Che Piccolo Corpo C'è una recensione All'interno Della nostra pagina E nella sezione Di Instagram Attenzione C'è tutta La guida Quindi voi Scorrete sulla pagina C'è scritto guida All'interno delle guide Ci sono tutte le recensioni Da aggruppare Quindi Andate Manco io questa cosa Eh questa è nuova È fresca fresca Siamo un attimo Svegliati Capito Bene Ma invece So che sei contento Invece che Siccità Non abbia avuto Questa fortuna Di essere menzionata Perché ho visto Che c'è una sorta di Non ho mai detto Questa cosa così Maravagia Evidentemente Ma ancora ci hanno creduto Se non sono candidati Non è che è colpa mia Allora Parlami Nostalgia Secondo me È tra quelli Insomma Tra quei dodici Forse quello più Che ha più chance Nel senso che L'idea del film Che non ho visto Però È comunque Un film Molto locale Che racconta Una realtà Che è un po' Vendibile all'estero Che piace agli americani Come Napoli È un po' Felliniano Nel senso che So che parla Di ricordi Della vita Di questo tipo Poi ci sta Per Francesco Favino Che è una garanzia Do lo metti La sta No siccome Non credo che vincerà niente Però Può essere Qualcuno Che arriva magari Ai cinque finali Bah no dai Cinque finali Comunque Ricordiamo che Stiamo sempre parlando Di un miglior film straniero Quindi Bisogna vedere Dall'altra parte del mondo Che arriva Però d'altro Giusto Off topic Ecco c'è sta Polemica Nuova Nuova Della Russia Che non ha candidato Nessun film Si non ha lavato le mani Vabbè L'accademia Spero meglio L'accademia della Russia In Russia La Russia Ha deciso Di non candidare Proprio le Autorità Russe Adesso Non so Tramite Qualente Hanno proprio scavalcato L'accademia Che di solito Si occupa di selezionare Quei Quella lista Dicendo No quest'anno Non presentiamo niente Per propri motivi Però Io mi pare Di aver letto Che loro hanno scavalcato Dicendo Noi non Proponiamo nulla Se volete Voi Fate voi Senza Un po' Da ridire Su questo film Che Continua Di incassare E a far parlare Di sé Cioè È un film Che comunque Tutti Stanno a vedere Ma sai che Non lo so Adesso Sono tendicato Di guardare i dati Però leggevo Che non sta incassando Così tanto Come si sperava Dicevo che forse A fine corsa Potrebbe arrivare A un milione Di euro Vabbè Comunque Stiamo parlando Di un film Uscito Cioè Un po' così Non so dire In un periodo In cui Si sa che Settembre Ottobre Novembre È un po' Quel periodo Morto Perché Non è Né Natale Né estate Quindi Diciamo che Chi decide Di distribuire In quella In quella fascia Di tempo Sai che Comunque È un qualcosa Di molto rischioso Se ci dà Io Chi sento Sento In giro Tra i miei colleghi Amici Sono stato Andato a vedere Comunque Ha stuzzicato Un po' Anche a essere Che tu vivi Nella mia bolla Nella mia bolla Certo Certo Allora Si ci dà Ci dà Ho trovato Una recensione Su Instagram Come Dicevamo prima Devo dire Una recensione Che mi è uscita Più velenosa Di quello Che Strano Che pensassi Strano Però allo stesso tempo Ripensandoci L'ho trovato Davvero Un Come dire Un tentativo Un po' fallito Di Parlare Di certe cose Cioè Per quanto non sia Un brutto film Quanto sia Anche divertente Anche commovente In alcuni punti Secondo me Poi Gli obiettivi Che si propone Non li raggiunge Cioè Non parla In maniera interessante Della pandemia Non parla Vabbè Non vi parliamo Della trama Perché tanto Ve ne abbiamo già parlato Nella scorsa puntata In cui presentavamo I film Che erano a Venezia E appunto Questo film Come dicevamo Si propone Di parlare Un po' Del periodo Del covid Che abbiamo vissuto E delle varie reazioni Che hanno avuto Varie tipologie Di persone Sì E anche stanno Perché in realtà Si parla appunto Di una Di una malattia Di un Una Chiamava una pandemia Ma non era una pandemia Perché è soltanto Incentrata sulla Sulla capitale di Roma Quindi O nel Lazio Questo non si era capito È più specifico In Roma Quindi c'è questa sorta Di malattia Che si sta diffondendo E ci sono persone Con le mascherine E persone senza mascherine Si Questa cosa Mi ha fatto un po' Pensare A quel periodo In cui non si sapeva Che si doveva fare Che cosa si doveva fare Quindi sì Sì è vero Ma secondo me La critica principale Che si può fare al film Ma vabbè Una È che sono troppe storie Troppe storie Che non hanno Il tempo necessario Per essere sviluppate A dovere Quindi i personaggi Un po' ne risentono Cioè è vero che La maggior parte Gli attori Sono bravi Però quello che raccontano E lo sviluppo Che hanno È abbastanza È il classico film Corale Di Paolo Vizzi Vecchio stampo Però con così tanti personaggi Non l'ha mai fatto Per quello che io dico Beh sì Più che altro Sì perché Mi ricordo Io ho detto Che il cinema Ricordato molto Il capitolo umano Per come è strutturata La storia Non è la struttura Della sceneggiatura Però appunto In capitolo umano Erano tipo Tre storie E quindi Anche se erano Tanti personaggi Ma le storie Erano tre Sì Invece qua Sono tipo Otto personaggi Sono otto storie E poi Insomma Tecnicamente Si vede Un po' Non si può dire Che in esperienza Di Verzi Perché sarebbe Una fesseria Però che Forse non era Il tipo di film Che erano Le sue corde Perché Sembra molto ingenuo Sia nella fotografia Cioè così La fotografia Di Bigazzi L'ex direttore Della fotografia Di Paolo Sosentino Che non è il primo scemo Esatto E la fotografia È quella che fa Un po' più pena Diciamo Pena no Però è proprio Una scelta Molto forte Che semmo Non paga Cioè a un certo punto Diventa Semplicemente Sì ci sta rotto Questo colore Seppia Durante le giornate Perché appunto C'è questa siccità La notte È la notte È bella Molto interessante Gli interni pure Però poi C'è questo colore giallo Che si vede Preponderante Nelle scene Nelle inquadrature Che a me Appunto È un po' Alla lunga Stucca Come si dice No Sì E poi anche Il montaggio Soprattutto all'inizio L'ho trovato Troppo Troppo frenetico Chiaramente Perché doveva seguire Tutte le storie Per introdurre Una a una Però si fa Veramente fatica E anche qui Comunque Un professionista Come Jacopo Quadri Che non è Il primo scemo Vabbè Quindi dici Che è un'operazione Che non ha Non ha funzionato Guarda Non sono l'unico Che l'ho letto Non aver apprezzato Troppo Per cui Per una volta Posso Non dirmi La mosca bianca Della situazione Vabbè Comunque lo consigliamo Sì In ogni caso Sì Questo è Capito Cioè nel senso Il problema è che Non è un problema Per carità Va bene Però la gente poi dice Guarda È un film Un po' Nì Però Vattene a guardare Quindi comunque La gente ce va Comunque poi fa incasso Poi non capisce Se sono andati Per vederlo Perché è bravo Sono andati a vederlo Perché fa schifo Perché poi sono quelle le cose Ci sta questo rimando Che hai citato Anche nella recensione Che un po' Va a guardare Don't Look Up Il film Il primo film Del 2022 Di Netflix Che è uscito a gennaio È vero Sì Un po' Per il tono E vabbè Poi c'è una storia Che veramente Lo ricorda molto Sembra presa Anche se poi Chiaramente Due cose Sì L'hanno scritta In contemporanea No 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 Però vabbè Dai allora Andate a vedere se ci sta Magari scriveteci Nei commenti Cosa ne pensate Sì Ma io direi Chiudiamo questa parentesi Italiana Per muoverci un po' In quello che è successo In questa In quest'ultimo periodo Perché ci sono state Parecchie novità Nel mondo del cinema E delle serie tv Una tra le tante Di cui si ne sta parlando Enormemente So che è una cosa Molto da nerd Però Raya Reynolds Ha fatto l'annuncio Annunciazione Annunciazione Raya Reynolds Ha annunciato Deadpool 3 E come l'ha fatto? L'ha fatto con un video Sui sui social Dove Dice Ah guarda Stiamo lavorando A La nuova A nuovo film Di Deadpool 3 Non ci abbiamo tante idee Però ci stiamo lavorando Ci ho messo tempo L'unica cosa Che mi è venuta in mente Forse è questa E dietro di lui Passa Hugh Jackman Che stanno in casa sua E dice Hag ma ti andrebbe Di tornare nei panni Di Wolverine Per un'ultima volta? E lui Sì perché no E poi fa l'occhiulina Alla macchina Quindi bomba Ha lanciato la bomba Chiaramente Ma non era morto Allora Bella questa domanda Tanti lo stanno Vivendo sui social Ma io dico Dico la mia Abbiamo lasciato Wolverine Nel 2029 Quindi è morto Nel 2029 Nel futuro Il film sarà ambientato Nel 2022 Quindi probabilmente È lì lì Tra l'altro Non ho mai detto Se Logan È considerato Caronico o meno Eh Questo è un po' stano Perché All'interno di Logan C'è Xavier C'è il Dottor X Che se lo porta Sello scorrazza avanti E dietro E lo stesso Dottor X Lo ritroviamo Nel multiverso Della follia Di Dottor Strange In un altro universo In un'altra versione Sì Quindi Boh Kevin Feige Cosa stiamo facendo Con questo multiverso Ci stiamo muovendo Un po' come ci pare A destra e a manca Perché iniziamo A bere un po' troppo Eh 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 Che poi se non ho capito male Questa sarebbe La prima comparsata Di Wolverine Nell'MCU 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 E questo perché Perché Deadpool Entra a far parte Dell'MCU Ufficialmente Con questo film Senso Deadpool è nato Di fuori Dell'universo Marvel E adesso Kevin Feige Ha deciso Di farlo entrare E lo farà Attraverso questo film Che uscirà Il 6 settembre 2024 Quindi avremo Tanto ancora Da aspettare E la domanda Che un po' Tutti si stanno facendo Oltre a questa Del fatto che Wolverine è morto Non è morto È Sarà un cameo O invece Avrà una parte Beh Non credo Se lo sarebbe Giocato così Adesso Un paio di scene Perché Ramy Suge È un po' Abitato a queste cose Guardiamo pure No Way Home Il multiverso della follia Personaggi importanti Però Un piccolo di camei E Boh Staremo a vedere Tra l'altro devo dire Che È abbastanza irrinia Con Quella che è diventata La carriera di Ryan Reynolds Cioè Tu non so se Tu sai che Lui è Parallelamente La carriera d'attore Ha lanciato Questa agenzia Di marketing Non sa Stacco di video Di questo tipo Sono ironici A me Lui come Come personaggio Piace È una persona Molto Molto sveglia Infatti Lui produce Scrive Fa la regia E A 360 Questa cosa Dell'agenzia Non la sapevo Quindi Vende Vende La sua faccia Per le altre aziende Sì Ma sempre Con questi video Nel suo stile Tra molto Qui si prende in giro In cui Autoironico Sì A proposito Di Artigli Retratteri Parliamo Di Rocco Siffredi Giusto Giusto Perché Ci sta questa notizia Del fatto che Rocco Nazionale Diventerà una Una fiction Una serie Netflix Interpretata da Alessandro Borghi Che sappiamo Di questa roba Ma a quanto pare Dovebbe essere A quanto pare La prima cosa Devo dire È che È Liberamente È stata ispirata Alla vita Di Rocco Siffredi Perché lo stesso Attore Ha detto Io ho parlato Con i sceneggiatori Mi è piaciuto il progetto Però Effettivamente Quello che vogliono raccontare È E non è La mia vita Cioè Un racconto Un po' romanzato Un po' inventato Di quello che Mi è accaduto E Che si focalizza Molto sul Lato femminile Insomma È vista La sua vita È vista attraverso Le donne Mi ricordo che fece questa cosa Perché lui ha partecipato In vari reality L'isola Sera se qua E mi ricordo che È una di quelle cose Che dice spesso Nei talk Che lui è cresciuto In mezzo alle donne Ed è per questo Che lui non ha manco Non ha nemmeno La vergogna Di mostrarsi Perché è sempre Cresciuto in mezzo alle donne E quindi c'era Questa cosa Di spogliarsi Tranquillamente Ante a loro E ci sarà Si vedrà lui Da piccolo E poi da Da grafico E poi nel cast Ci saranno Jasmine Trinca E Giancarlo Giannini Nella parte Dei due genitori Una parte difficile Una parte difficile Questo è quello Che produce L'Italia Stavo vedendo Che a scrivere La serie Francesca Manieri Che è comunque Reputata Una delle più grandi Writer Qui in Italia Quindi il progetto È stato preso In mano Da persone Di un certo calibro Poi per portare Questa cosa Ma c'era veramente Bisogna di fare Una storia Su So Così Freddi Hai fatto Un documentario Su Pandamark Io l'ho visto E mi è piaciuto Eh ma funziona Perché l'era È documentario Questo è fiction Ti sei visto Lì Pam e Tommy Pam e Tommy Quello è vero Così Freddi Quello è vero Questo è vero Vediamo come Come appunto Come gestiranno Le scene di sesso In questa serie Che stiamo sempre Producendo in Italia Secondo me Faranno la mossa Di Mettercene poche Mettercene poche Così Ma rimaniamo In tema Netflix Perché abbiamo Un paio di annunci Da fare Si è concluso Il Tudum Tudum Che è Tudum Tudum Farò anche tu Tudum Tudum È il suono che fa Netflix Quando compare la N Tudum E quindi si sono inventato L'evento Tudum 2022 È la seconda volta Che lo fanno È un evento globale Che Netflix Tramito una diretta Facebook E YouTube Ha raccorto Molti visualizzatori In tutto il mondo E questo evento Praticamente mostra I film e le serie In attivo Sulla piattaforma Noi di Populano e Podcast Abbiamo raccolto Notizie più interessanti A partire dalla Prima serie Tra il gara Tim Burton Mercoledì Che debutterà Il 23 novembre Mentre l'Italia Avrà un'anteprima Degli episodi Il 31 ottobre Verso la fiera fumettistica Lucca Comics And Games Dove ci sarà Anche Tim Burton Quindi Non so se ci sono ancora Biglietti Ma se vi interessa Andate Poi vabbè Hanno mostrato La clip in esclusiva Del backstage Del film Pinocchio Di Guillermo del Toro Hanno fatto vedere Tutte queste cose Stop motion Molto molto carino E poi Si sono visti Hanno parlato Di Blondie Di Atena Filme che già Abbiamo parlato Per Venezia Tu l'hai visto Blondie? No Però l'ho visto Atena L'hai visto Atena? Com'è? È molto ben Cioè bene È molto spettacolare C'ha questi piani di sequenza Non mi piace Però anche Un barcazzatore Cioè nel senso È molto Semplificato Nella psicologia È da vedere Senza Avere troppe pretese Ok Sicuramente Quindi andatevelo a vedere E poi ci sono Nuovi film Tipo The Mother Con Che vede Jennifer Lopez Nei panni Di una madre Protagonista E di una letale assassina Che esce dal suo nascondiglio Per proteggere la figlia A cui hanno annunciato Hanno rinunciato anni prima Quindi un film d'azione Con Jennifer Lopez C'è questo filone Di attori e attrici Che si vogliono riciclare Che fanno Sì sì Un personaggio comune Che però si scopre Essere un killer E quindi Sì sì Di solito fanno abbastanza schifo Perché Finiamo questa parentesi Parliamo di Grace Onion Nives Out Il sigo del film Investigativo Con protagonista Daniel Gregg Che interpreta Il detective Benoit Blanche E È il secondo film Di questa Saga La saga Proda su Netflix Per il secondo episodio Perché il primo episodio Invece era Era proprio Distribuito al cinema Ehm Era sempre prodotto Da Netflix Era il primo Però è andato al cinema È andato su piattaforma E questo perché Non lo mandano al cinema? Questo non lo mandano al cinema Ma lo mandano solo in piattaforma E lo dicevo l'altra volta Dobbiamo fare sta petizione Che io con l'abbonamento Di Netflix Posso andare al cinema A vedere i film E Sempre parlando di sequel Ci sta Chris Hemsworth Quello lì di Toz Chris Hemsworth Che ha mostrato Alcuni Stunt Di Adore Quinte Della lavorazione Del suo sequel Del film d'azione Tyler Rake 2 Intitolato Extraction 2 Extraction 2 Quindi sequel Su sequel Ma hanno annunciato anche Delle novità Sulle serie tv Vabbè A parte lo spin off Di La casa di carta Berlino Che Hanno fatto tutta sta Cosa carina Hanno fatto L'intervista a lui Poi ci sarà La terza stagione Di Bridgerton Con il suo spin off Queen Charlotte A Bridgerton Story La quinta stagione Di The Crown Che sappiamo che hanno Smesso di Hanno interrotto le riprese Durante tutto il periodo Della morte della regina Sono proprio fermati Eccetera Stavano girando appunto Questa quinta stagione Di The Witcher La quinta stagione Di The Witcher Broad Origin Sì Hanno Hanno annunciato la serie Prequel di The Witcher Quella con Eric Avil Si chiama Broad Origin E verrà pubblicato Il 25 dicembre Ma è una cosa originale Netflix Non Non può fare No non ci riesce Chiudiamo il To do my event Con l'annuncio Del documentario Sul basket The Rhythm Team Di prossima uscita Con la partecipazione Del compianto Kobe Bryant Insieme a Lebron James Dian Wade Carmelo Anthony Il documentario Segue la squadra Di basket Stranunitense Nell'Olimpiede del 2008 Mentre cerca di Conquistare la medaglia d'oro Diciamo che In questo sono stati bravi Perché The Last Dance Il documentario Appuntare Sulla Sulla squadra Di basket Più forte Tutti i tempi Dell'NBA Quella con Michael Jordan Ha fatto il botto Se la sono fissi tutti Quindi Hanno un po' Diciamo Cavarcato Quell'onda Un po' Mi dà fastidio Che stia uscendo Un documentario Con un Kobe Bryant Nello stesso momento In cui Prime Ha fatto uscire Il documentario Su Kobe Bryant Quindi Ci sta questa cosa Questa guerra Tra piattaforme Ehm Vabbè Questo è un raggio famoso Della fine tragica Esatto Esatto Questo era Il To do Event Io volevo Chiudere Con una news Dell'ultimo Momento Non so se lo sei Bruce Willis Ha venduto i suoi diritti Hai visto che lo sai Deepfake Sì Avendo È stato il primo Attore a vendere I diritti Per i deepfake Cosa significa Che lui può Che la immagine Potrà essere ricreata Digitalmente Pagandolo Pagandolo Quindi lui probabilmente Sceglierà i tipi di progetti Perché lui si è ritirato Perché ha una malattia Si è dovuto ritirare Dal campo Del cinema Una malattia Perché non riesce più Ad articolare A memorizzare Le battute Esatto E quindi ha deciso Di non Non finire La sua carriera attoriale Ma di vendere I diritti Del suo volto Per i deepfake Quindi ci saranno Altri film Con Bruce Willis Interpretati da altri Ma con il suo volto Un po' quello che C'è stato L'hanno fatto anche con Arnold Schwarzenegger Nell'ultimo Terminator Hanno fatto Hanno preso delle clip Di quando lui era giovane Ah ok Hanno messo uno stunt Hanno fatto Hanno ricreato Un po' quella situazione Del primo Terminator Ci hanno messo Deepfake Quindi diciamo Che è qualcosa Che si sta facendo E poi mi ricordo Che si parlò anche Della possibilità Di utilizzare altri volto Tipo si parlava di McQueen Visti McQueen Si parlava Di James Dean Con gli attori morti Sì Perché non c'è qualcuno Che ti tieni diritti Certo Gli eredi Però Non credo che Tu sia contento Se tuo figlio Vede Questa immagine Quando sarai morto La mia immagine? Sì Intanto facciamo Prima un figlio E poi dopo Ne partiamo Ragazzi Anche questa puntata Giunge a termine Oh puntatina piena di cose Siamo tornati Scoppiettanti Scoppiettanti A pieno di Jimmy Allora ragazzi Rimanete connessi Le nostre pagine social Per non perdervi Le news Le uscite Al cinema A piattaforma Rimanete Connessi Commentate La puntata Su youtube Se ci guardate Su youtube Oppure Diteci la vostra Nel box apposito Di spotify Io adesso Vi diamo appuntamento Al prossimo episodio Vi auguriamo Una buona settimana E vuol dire qualcosa? No Saluto a tutti Ciao Ciao